Perché papà Giorgio non ti permette di andare al cinema? Non lo so, non me l'ha mai detto. Scommetto che a me me l'avrebbero permesso. Dove sono i tuoi? Sono morti quando ero piccola. Ma papà Giorgio e mamma Gianno sono i miei padrini. E così mi hanno adottato. Mio padre mi portava al cinema di continuo. Mi ha raccontato del primo film che ha visto. È entrato in una sala buia. E su uno schermo bianco ha visto un razzo volare nell'occhio dell'uomo della luna. E si è conficcato dentro. Sul serio? Ha detto che è stato come vedere i suoi sogni in pieno giorno. Il cinema era il nostro posto speciale. Era dove potevamo guardare qualcosa e non sentire la mancanza di mamma. Pensi a lui sempre, vero? Ogni momento. Anna, ma tu dove abiti? Laggiù. Posso venire a casa tua? Certo. Però prima ti devo mostrare un luogo. Che però non devi dirlo a nessuno. Facciamo che è un segreto tra me e te, ok? Promessa? Ok. Segui me. Mio zio Claude mi ha insegnato a far funzionare gli orologi. Così continuo a farlo. Non hai paura che qualcuno ti scopra? No, se gli orologi funzionano e nessuno mi vede. Sei naturale. Come? Continuo a camminare e sei naturale. Perché? Come sono adesso? Lascia perdere e continua. Ascoltami. Dai, per favore. Seguimi. Non facciamoci vedere. Non facciamoci vedere. Non facciamoci vedere. Grazie.